Quel modo di prendere la vita lì è il migliore, questo qua si è inventato, se no non ti salvi, in casa uno come Fabio, cosa faccio? Cercato di ammazzarmi otto volte nel film e lui prende questa piega e questa piega dicevo che l'ho presa anche un po' nella vita, mi ha cambiato effettivamente molto la prospettiva anche perché è un personaggio che non l'ho mai interpretato, ho fatto tante cose, cattivo, buono, cinico, rimambito, però ottimista così non mi era mai capitato e devo dire che ha delle belle potenzialità l'ottimista perché è sempre un coglionazzo e invece ha il suo perché. Nel primo film ci hanno messo qualcosa loro perché io non c'ero, nei film ci si mette sempre qualcosa, un lavoro di collaborazione sempre, però quando il film è ben scritto, l'importante è quello, poi dopo lavorarci sopra è più facile, noi 30 anni fa magari partivamo con un canovaccio oppure con un telaio di sceneggiatura, una bella idea, si andava avanti, si scriveva, stava facendo, modificava, adesso siamo più grandi e cerchiamo sempre di più di partire da una sceneggiatura che abbia una struttura molto sola, questa qua ce l'aveva molto sola, poi ovviamente ognuno ha ricammato sul suo personaggio, mi è venuto in mente di dire la cosa, mentre usciva Chiarazza è, mi pare meridionale, insomma è venuta, siccome io posso dirlo perché sono meridionale al nord e esternale al sud, quindi va bene, ci sto dentro.